Cappellino in testa, cerotto sul collo, parecchi chili in meno, il volto scavato dalla malattia, ma esce dall'ospedale ed è lì Sinisa Mialovic in panchina per l'esordio della squadra, della sua squadra, il Bologna. Da uomo di grande coraggio è lì. Era poco più di un mese fa, il 13 luglio, quando Mialovic comunicò in conferenza stampa che era malato, ma che avrebbe, come sempre, combattuto e che non aveva paura. Leucemia, sicuramente quando mi hanno detto ho preso una bella botta. Sono stato due giorni chiuso in camera pensando a tutto, a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita. Io questa sfida la vinco, ma ho bisogno di aiuto, di persone che mi vogliono bene. Forse se qualche giornalista avesse avuto più rispetto e non avesse sparato la notizia in prima pagina, Sinisa magari avrebbe taciuto o avrebbe deciso lui il momento per dirlo. E invece lui si presenta e parla, si commuove e ci fa commuovere. E ieri era in campo, a dare ordine alla squadra e a dire, con il semplice e complicato linguaggio del corpo, ad una banda di ragazzotti viziati dal mondo del pallone, che per essere dei campioni fuori e dentro il campo i soldi non servono. E il talento ci può mollare, ma la forza, l'abnegazione, quelle no. Se ce le abbiamo ci accompagnano sempre e ci salvano la vita.